Le migliori tesi di laurea e di dottorato incentrate sul tema delle pari opportunità sono state premiate nella sede dell'Unione Industriale a Palazzo Partanna. Il premio intitolato a Lucia Mastro Domenico è stato promosso dalla delegata alle pari opportunità dell'Unione Industriale, Anna Maria Schena, insieme al suo comitato. Le ragazze premiate potranno partecipare a tirocini formativi presso le aziende vincitrici di un altro riconoscimento, il premio Noi, nuovi orizzonti d'impresa, assegnato a quelle realtà che hanno saputo conciliare vita familiare e professionale. Il premio Lucia Mastro Domenico è un premio per tesi dove noi andiamo a dare valore e visibilità a dei lavori svolti da studentesse che si rivolgono alle pari opportunità e alle politiche di conciliazione e al problema della cultura di genere. Lucia Mastro Domenico è stata una intellettuale ed una figura di grandissimo rilievo per il suo pensiero politico avanzato e importante per questa città. Come donne imprenditrici la Campania è una regione rosa, ha molte esperienze in questo senso, a volte anche positive, insomma c'è un sistema molto forte che in qualche modo riesce a esprimere anche delle eccellenze significative e importanti. Un po' più delicata è invece la situazione che riguarda le donne lavoratrici, abbiamo ereditato un ritardo sull'occupazione femminile in Campania significativo, ci stiamo lavorando, le misure di incentivo regionali sono misure che al 50% vogliono favorire l'occupazione giovanile e stiamo lavorando bene. Per esempio in un connubio felice tra giovani e donne le misure sull'apprendistato della regione Campania non soltanto segnano un punto più per quanto riguarda il numero complessivo dei giovani che si avviano al contratto di apprendistato, che è quella figura destinata ad assorbire la maggior parte delle occupazioni giovanile, ma in Campania quasi il 50% sono donne. Oggi siamo qui appunto per valorizzare la figura della donna anche a livello imprenditoriale e un po' in tutti i settori, io in veste di assessore alle pari opportunità della provincia di Napoli sono sempre presente e sono attenta a queste problematiche, le donne purtroppo ancora subiscono delle pregiudizie e diverse disattenzioni da parte del mondo del lavoro. Grazie a tutti!